Salve a tutti ragazzi, benvenuti ai miei iscritti per tutti, bentornati su Giovacchetti Spò Io sono Giovacchetti Spò e questo è il secondo episodio della serie del carriera allenatore con lo York City Scusate se il primo episodio si è interrotto senza che vi abbia salutato Ma purtroppo ho notato che diventava troppo lungo e quindi ho dovuto tagliuzarlo, diciamo E comunque siamo qui con lo scuola episodio Iniziamo con... Prima di iniziare a proposito Volevo dire di passare dal canale del mio grafico Trovate il link in descrizione Fa anche lui video su food e dovremmo avere attivo un contest Dunque, abbiamo venduto John McConvert per 175.000 euro Sono 150 annetti ci sono andati nella tasca E dunque, con questa cessione potrei optare per Qualche altro difensore da prendere svincolato Quindi vado a fare la modifica per lo stanziamento del budget Facciamo il nuovo stipendio per il budget Così posso acquistare giocatori svincolati Nel quale si prega soltanto il contratto E vediamo un po' chi c'è E dunque, obiettivo di campionato Vabbè, non mi interessa Contro offerta ricevuta Quindi, vabbè Un contratto rifiutato E vabbè E vabbè Ti do, facciamo così, dai Food, chiave Perfetto Poi, aggiustiamo anche questa E dunque Andiamo avanti con Con il calendario Siamo qui per giocare la partita amichevole Contro chi, non so chi sia Non so che squadra sia Contro il Burnley La giochiamo fuori casa E dunque Andiamo avanti Sta per iniziare dunque la partita Contro l'amichevole Contro il Burnley Nivello campione Minuti 5 per tempo E dunque, iniziamo Mamma mia Che rete improvvisa Di Bocca È un trentesimo minuto Non mi aspettavo Questo gol Infatti pensavo che Uscisse Che usciva Pensavo uscisse E quindi non ho neanche commentato Ma invece Mi ha sorpreso appieno E ha segnato È Difficile, è difficile Kettri Kettri S'accentra Kettri Ancora Kettri Kettri insiste Grandissimo Kettri Ancora lui Assegno Nella partita Un quarantesimo minuto Grandissimo Kettri Che insiste su questa palla Che sembrava persa Però lui Ci arriva Fortissimo Questo Kettri Con queste squadre C'è lo scatto di Brobbel Brobbel si propone Brobbel ancora Sulla fascia Il cross in mezzo In mezzo per la testa Per il tiro al volo Di Reed Il tiro al volo Ha Reed Non so come si chiama A settantottesimo minuto Su questo cross Spennellato Da Brobbel Che insisteva sull'azione Grandissimi Questi giocatori 2 a 1 Kettri ancora In mezzo Per la testa Di chi è? Grandissimo Kettri Fa un assist Al novantesimo Per Carson Sempre in due Ci mettono Zampino Assist e goal Per Kettri Ottimo giocatore E finisce La seconda amichevole Seconda vittoria Ci propone davvero In un ottimo Inizio di stagione Sperando di Vincere la stagione Di fare qualcosa E dunque Siamo giunti All'altra Terza Alla terza amichevole In casa contro Lavellino Questo sarà un po' Più difficile Forse Contro Lavellino E Non so Penso che vadano bene I stessi giocatori Dai Sì Sì Dai E dunque Sta per iniziare La partita amichevole Contro Lavellino La terza E ultima Dovrebbe essere Si spera Una terza vittoria Di fila Brobbel in mezzo Cerca la testa Di Dai Che cazzo Ancora Brobbel La parata del portiere Grandissimo Questo Brobbel Fletcher Recupera palla Spalla spalla Con il difensore Fletcher Ancora In mezzo A cross Per cercare la testa Di chi è Poi c'è Kettri Fuori dall'aria Il tiro Kettri Si libera Dall'avversario Il tiro Grandissimo Kettri Ho il 73 Ancora lui Ci pensa A segnare La prima rete Del nostro York City Si libera Del difensore Poi Sola Lunga Con il suo Destro La infilla 1-0 York City Avellino Finisce dunque Anche la terza Amichevole Ottimo Precampionato Con lo York City E soprattutto Ottime prestazioni Di Kettri Che ad ogni partita Ci fa sempre un gol Direi davvero Ottimo 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 E dunque Credo che anche Per questo episodio Possa bastare Credo che Sull'avvenire Di FIFA 15 Non finirò Questa serie Perché comunque Per arrivare in Champions Ce ne vuole E abbiamo fatto Già due episodi Facendo soltanto Tre partite Ma vabbè Dettagli Cercherò di stringere Molto gli episodi E dunque Spero che Questa carriera Vi piaccia Se vi è piaciuto L'episodio Naturalmente Lasciate un bel Pollice Alla in su Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Qui Vi saluto Vi ringrazio E ci vediamo Alla prossima Per un nuovo video Ciao Alla prossima